A Chiara Valle, festa di fine anno scolastico. 5 giugno, nel giardino della scuola dell'infanzia del Plesso Foresta, alla presenza della dirigente Elisabetta Giannotti, delle docenti del Plesso e di un numeroso pubblico composto da genitori, nonni, si è svolta la consueta festa di fine anno. I bambini si sono esibiti in canti, poesie e balletti. Il tema che ha fatto da sfondo è stato quello delle emozioni. Gli alunni dell'ultimo anno hanno poi ricevuto il diploma di fine percorso. Il tutto si è concluso con un buffet e la torta offerta dai genitori. E poi musica a volontà. Gli alunni dell'ultimo anno scolastico. Gli alunni dell'ultimo anno. 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 Gli alunni dell'ultimo anno.